quale via possiamo imboccare per partire alla ricerca dell'uomo che vive dentro di noi in un'epoca in cui essere maschio è complicato e richiederebbe un azzeramento della struttura dentro la quale i nostri predecessori ci hanno imprigionati come possiamo noi maschi realizzare la versione migliore di noi stessi per poterla donare agli altri in tutta la sua bellezza ed energia costruttiva mi chiamo paolo e sono un uomo qualunque non sono uno psicologo né un filosofo e neppure uno dei tanti guru che si trovano in rete non mi reputo un intellettuale e detesto in genere ogni tipo di etichetta sono solo un uomo che riflette e cerca di capire dove è arrivato se vorrete potrete accompagnarmi in questo viaggio fatto di racconti riflessioni che non avranno lo scopo di insegnare o di trovare soluzioni ma che vogliono unicamente offrirvi un'occasione di riflessione e spero di cuore una prospettiva diversa dalla vostra benvenuti o ben ritrovati a tutti quanto devo al teatro tantissimo io spero davvero che non vi stanchiate di sentirmelo ripetere e non vi stanchiate degli aneddoti che vi racconto spesso in queste puntate ma ormai lo avrete capito la recitazione è una di quelle esperienze che mi hanno davvero dato una svolta alla vita in tanti modi già di per sé la soddisfazione di calcare il palcoscenico di fronte a un pubblico potrebbe essere più che sufficiente a gratificare una persona come me ma la performance è solo il risultato di un viaggio che ogni volta viene intrapreso dall'attore e dai suoi compagni di scena ci si imbarca insieme su di una nave pirata il regista e comandante l'aiuto regista è il secondo e poi gli attori sono la ciurma sempre iperattiva indaffarata con le cime con le vele a testa bassa a pulire la nave sotto il sole e sotto la pioggia e poi ci sono i navigatori solitari i monologhisti che comunque hanno bisogno di spalle di tecnici registi e il viaggio per raggiungere il palcoscenico va comunque fatto tappa dopo tappa prova dopo prova nonostante tutto quello che ti può accadere nel frattempo a prescindere da che tempo fa dal freddo dal caldo dall'alta o dalla bassa marea vi ho già raccontato del fatto che io ho iniziato a recitare ormai più di 14 anni fa sono quasi 15 in uno dei momenti peggiori della mia vita un momento durante il quale la mia esistenza ha subito uno scossone degno di un terremoto e dove tutto sembrava girare intorno a me come un turbine nulla di originale credetemi sono cose che capitano a tantissime persone non c'è nulla di eccezionale o di eroico nell'affrontare questi passaggi e non ve lo racconto alla ricerca di un riconoscimento particolare per averli superati no 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 sono solo uno dei tanti che ha tenuto duro e che è riuscito a superare momenti difficili che possono davvero capitare a tutti l'unica cosa in più che cerco di fare e elaborare e comprendere sempre più a fondo cosa mi è successo e come mi sono mosso per uscirne perché spesso non me ne rendo conto ed ecco appunto che una cosa apparentemente futile per i più come la recitazione a me ha fornito l'occasione per imparare a gestire il dolore attenzione non sto assolutamente dicendo che recitare è terapeutico questo è un luogo comune che personalmente ritengo sbagliato se devi fare terapia vai da uno psicologo bravo non ti iscrivi a un corso di recitazione per curarti mi raccomando e ci tengo che sia chiaro ecco io ho fatto le due cose in parallelo e in effetti ora che ci penso i due percorsi si sono aiutati a vicenda ma che sia chiaro che quello che mi ha permesso di rimettermi in piedi è stata la psicoterapia non la recitazione ok quello che voglio mettere a fuoco oggi è l'occasione che il palcoscenico mi ha dato di mettere in pratica delle tecniche di sopravvivenza che una volta comprese non ho più dimenticato una su tutte è quella che voglio condividere con voi usare le emozioni negative e gli stati d'animo difficili come benzina per fare qualcosa di buono sapete se non sei un professionista i corsi e le prove teatrali sono sempre di sera gioco forza parliamo di almeno quattro ore di lavoro che consistono in esercizi molto fisici lavoro sulla voce sull'interpretazione del testo tecniche di recitazione eccetera 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 insomma tanta tanta roba e potete immaginare dopo una giornata di lavoro magari ad un'ora di distanza da casa trovare l'energia per fare quattro ore di prova beh non è uno scherzo eppure si fa le forze le puoi trovare ma ci sono in effetti delle sere in cui ti si chiudono gli occhi e magari si va avanti anche ben oltre la mezzanotte con il pensiero poi della sveglia all'alba per carità o peggio ancora puoi anche arrivare alle prove dopo una giornata di merda di quelle durante le quali è successo di tutto tutto è andato storto sul lavoro a casa magari ti ha chiamato la tua metà e ti ha riversato addosso un bilico di merda perché il vostro rapporto è arrivato al capolinea o hai appena scoperto che tuo marito ti è tradita e indovina un po' con la tua migliore amica oppure quella persona che era così importante per te semplicemente se n'è andata e ti ha abbandonato qui su questo pianeta dove ti senti solo tra la folla ecco ci sono tutti questi possibili momenti di lutto personale durante i quali il dolore in effetti diventa avvolgente ti stritola come un serpente boa e ti pare di non riuscire neppure a respirare altro che recitare ma ormai sei lì sul palcoscenico in mezzo agli altri attori che hanno anche loro tutti tutti assolutamente tutti i cazzi loro e tu lì nel mezzo devi recitare come devono fare loro e devi diventare qualcun altro un personaggio completamente diverso da te che potresti anche odiare nella vita reale ma che è il tuo personaggio e per il quale ti devi spendere al massimo per dargli vita per dargli corpo ma se stai male paolo come fai a fare una cosa così difficile recitare figurati ma chi te lo fa fare eppure amico mio si può fare e ti dirò che si può ottenere anche un grande risultato basta usare il dolore sì sì avete capito bene esiste il modo di incanalare quella sensazione anche fisica di dolore quella che si sente qui all'altezza dello stomaco e trasformarla in benzina per il tuo personaggio quella tristezza infinita che sembra schiacciarti diventa un colore nella tua voce una postura del tuo corpo che ti trasforma in un altro essere che effettivamente è nato dalla penna di qualcun altro ma che sei tu a portare alla vita come attore se non avessi imparato a incanalare il mio dolore non avrei mai potuto continuare con la recitazione e invece ho imparato così bene che questa cosa l'ho messa in tutto anche nella scrittura superati gli anni di dolore acuto è arrivato il momento della solitudine e lì mi sono buttato nella vita sociale come fanno in molti via via ballare tutte le sere aperitivi cene feste qualsiasi occasione era buona per non rimanere da solo ma quella sensazione non passava mai non c'era verso fino a quando mi sono detto usala la tua solitudine raccontala scrivila esorcizzala e così le mie domeniche solitarie che tanto mi terrorizzavano sono diventate il momento di massima creatività ho cominciato a scrivere tantissimo senza sosta e più vuotavo il sacco e meglio mi sentivo fino a che a un certo punto tutte le schifezze erano uscite e ho cominciato a scrivere nuovi racconti prima dei piccoli monologhi poi un copione fantastico pieno di speranza di buoni propositi e poi il primo libro poi il secondo il terzo e ora la situazione si è ribaltata non soffro più di solitudine anzi la ricerca per poter scrivere e a volte sono contento di non aver ricevuto proposte per il prossimo fine settimana perché così potrò organizzarmi in modo da avere molte ore per scrivere tutto solo e felice nel mio studio verde salvia beh questa che vi racconto è la mia via il modo che ho trovato io e che mi calza addosso come un guanto mi rendo conto che non può essere adatto a tutti ma ma sono certo che ognuno di noi può trovare il proprio modo di usare il dolore ecco il nocciolo della puntata di oggi trovare il proprio modo per usare il dolore potrebbe essere il volontariato o dedicarsi anima e corpo ad un progetto che era rimasto lì nel cassetto abbandonato che non avevamo avuto il tempo di mettere in pratica e perché no se è la rabbia a prevalere beh uno sport da combattimento può diventare un'ottima valvola di sfogo che può trasformare la mente e il corpo no credetemi esiste il modo di usarlo il dolore di trasformarlo in una preziosa benzina buona basta non arrendersi e andare avanti con tutte le proprie forze sempre e voi avete mai provato ad usare gli stati d'animo difficili incanalandoli in azioni costruttive avete mai cercato un impegno un'attività creativa che possa trasformare in benzina il vostro dolore questa era la 46esima puntata di alla ricerca dell'uomo perduto usare il dolore grazie per avermi concesso la vostra attenzione io sono paolo agazzi e sono un uomo qualunque spero uno dei tanti alla prossima alla ricerca dell'uomo perduto è un progetto semplice spontaneo e non ha il sostegno di un canale ufficiale è un viaggio che richiede lavoro coraggio e certamente una buona dose di fiducia al prossimo è un incarico che mi sono ripromesso di svolgere con la massima onestà in solitario e senza l'aiuto di nessuno ma c'è una cosa che conta per me e che mi renderebbe davvero felice se vi è piaciuto quello che avete ascoltato se ritenete che sia interessante utile passate parola a chi vi sta a cuore non tenete per voi quello che vi viene donato e aiutatemi a svolgere il compito che mi è stato affidato l'unico sostegno che conta davvero è il vostro proprio il vostro